Ciao Garivelli, sono qua con le colonne portanti del Garibaldi per invitarvi tutti giovedì prossimo, primo giugno, per l'apertura di questo estivo che abbiamo preparato per voi. Ci sono una fraccata di novità, ci sono 100 posti in più a sedere, così almeno il signore in cucina si deve sbattere, ha preparato una nuova carta per il ristorante. Abbiamo fatto una nuova drink list con Edo e Iari, ci sono dei drink che fanno veramente paura. Abbiamo già iniziato col brunch la domenica mattina, tutti i giovedì sera c'è il live e poi che cosa devo continuare a dirvi ragazzi, c'è un estivo nuovo da venire a vedere, fidatevi che come sempre non vi abbiamo mai deluso e anche questa volta lo faremo. Ciao Garivelli, a noi, a Garibaldi!